Arriviamo sotto le funi Vedo il pilone, sotto quel pilone lì c'è stato l'incidente Siamo tornati all'incontro sempre meglio sotto il pilone davanti a noi E' il primo che vediamo e il secondo che viene diventato l'incidente Ecco sotto questo pilone vediamo i piccoli soccorritori Pio Valle c'è stato l'incidente, la camina è nel vallone che da qua non riusciamo a vedere Quello è l'ultimo pilone prima della sessione di arrivo della funi via La monta non è nel 1520 Quindi l'imposto della finanza che carica i suoi territori Alla prossima 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 Grazie